Un saluto dal Tg della Mobilità, in centro sono in corso i lavori di riqualificazione per Via del Tritone, da Largo del Tritone a Largo Chigi. I bus diretti verso Via del Corso, da Largo del Tritone, sono deviati su Via Due Macelli, Via Capole Case, Via della Mercede, Via delle Convertite e Via del Corso. Restando in centro, sabato dalle 18.30 è prevista una manifestazione a Piazza Bocca della Verità, con possibili ripercussioni per la viabilità della zona e la deviazione di 14 linee di bus.